ci siamo è un grande momento storico per tutti gli studenti italiani ecco a voi la nostra ultima invenzione la nostra nuovissima arma per copiare l'orologio bigliettino con occhiali scopriamolo insieme o che magia all'interno della confezione troviamo il cavetto usb per trasferire file e caricare l'orologio il suo alimentatore le auricolari per ascoltare la musica il libretto di istruzioni semplice chiaro e in un certo senso inutile non ne avrete bisogno e adesso ecco l'orologio invisibile bigliettino come vedi lo schermo è totalmente bianco sembra rotto è praticamente inutilizzabile ma ci arriveremo poi nella scatola troviamo anche questi stilosissimi e comodissimi occhiali con lenti polarizzate vediamo nel dettaglio come si usa l'orologio qui abbiamo il tasto emergenza antisgamo e qui il tasto di scorrimento per scegliere cosa ti serve sul menù dall'altro lato c'è il tasto play pausa che fa anche da accensione spegnimento vicino il jack per le cuffie e adesso la figata la magia siete in classe nel vostro orologio avete messo tutti i bigliettini che vi servono ma lo schermo è totalmente bianco come fare indossa gli occhiali ed ecco qui che un intero mondo di bigliettini mesi e mesi di programma si riveleranno davanti ai tuoi occhi e potrai vederli solo tu prof non si accorgerà di nulla questo è il nostro orologio bigliettino invisibile con occhiale scoprilo su www.shop scuolazoo.it